e buongiorno dall'ammasso di cappelli ritrovati cari amici di economia italia popolo del web oggi parliamo di quanto ha detto il buon mario draghi a bruxelles quindi cercheremo di fare un'analisi di quello che ha il suo discorso perché è importante fare un'analisi in sostanza perché appunto la commissione europea ha incaricato mario draghi di redigere un rapporto a proposito della competitività dell'eurozona e appunto e dell'unione europea chiaramente non solo dell'eurozona e appunto questo rapporto può avere delle fortissime conseguenze su quello che è appunto il nostro mondo le nostre policy i nostri indirizzi di policy soprattutto e tutto ciò si interconnette o comunque sia potrebbe avere delle ripercussioni riguardo diciamo la difesa europea tema che abbiamo trattato ieri non so perché ma penso che youtube mi abbia shadow mannato il video quindi se per caso non l'avete visto non vi è arrivato nel feed andate a riproporlo ricercarlo all'interno del canale però mi pare che sia shadow mannato perché ha una rich talmente bassa che è imbarazzante però a parte questa questione c'è anche la questione relativa all'integrazione digitale e alle catene del valore però con calma ci arriviamo buongiorno intanto a tutti vi chiedo di mettere un like assolutamente importante e se riuscite mettetelo anche al video di ieri soprattutto se l'avete visto vi è piaciuto più che altro perché c'è stato praticamente lo shadow ban davvero si vede che la parola riarmo non è piaciuta all'algoritmo che ne so a sto punto io mi sono andato a prendere appunto il discorso sul foglio sull'edizione del foglio di oggi appunto abbiamo il discorso di mario draghi riportato a pagina 7 almeno del mio pdf appunto come vedete la pagina è molto interessante ho sottolineato alcune cose che secondo me sono rilevanti e appunto partirei da queste cose rilevanti perché mario draghi parte dicendo che in europa il discorso è stato troppo concentrato sulla competitività tra gli stati infatti inizia dicendo per molto tempo la competitività è stata una questione controversa per l'europa e dopodiché va a cercare di esprimere meglio questo concetto ovvero mario draghi sottolinea un'incoerenza all'interno dell'unione europea cioè noi ci siamo rivolti all'interno dell'unione europea con il concetto di competitività fra stati secondo me non è tanto la competitività tra aziende quella che lui intende tuttavia c'è anche questo elemento più in là nel discorso infatti dice cos'è che abbiamo fatto abbiamo cercato di combattere il periodo subito successivo alla crisi dei debiti sovrani con una con una politica fiscale prociclica e l'effetto netto è stato solo quello di indebolire la nostra domanda interna e eliminare il nostro modello sociale tra l'altro draghi qua sottolinea un altro aspetto all'interno di questo inciso abbastanza grande in cui cita paul krugman dice noi non abbiamo più puntato sul concetto di produttività ok e quindi tutto ciò ha comportato una riduzione della crescita salariale almeno a mio avviso anche questo è un sottotesto perché lui appunto parla di riduzione dei salari al fine di aumentare la produttività tanto è vero che tante aziende in europa hanno cercato di delocalizzare verso l'est europa per ridurre i costi appunto di produzione ma d'altro canto non c'è stata da parte dei paesi più occidentali all'interno dell'unione europea un inseguire l'innovazione tecnologica o comunque l'innovazione delle varie filiere del valore quindi questa è la critica dei draghi draghi parte da questo assunto infatti dice allo stesso tempo non abbiamo guardato abbastanza verso l'esterno e quindi non ci siamo resi conto che la battaglia non era tanto o comunque lo scontro più che battaglia anche se effettivamente vediamo una guerra alle porte dell'europa che lo scontro appunto non fosse all'interno dell'unione europea quanto più che altro tra i grandi big player quindi draghi sta cercando di dirci in buona sostanza che o l'europa si dota di maggiore integrazione o comunque si dà una svegliata ok poi può essere la scelta di draghi o comunque l'indirizzo di policy di draghi può essere un altro indirizzo di policy completamente opposto comunque o svolta o banalmente è condannata a subire le scelte di altri paesi è abbastanza evidente tant'è vero che nel suo discorso dice ci siamo aspettati che anche tutti gli altri tutte le altre compagini estere all'unione europea stessero alle regole ci siamo aspettati o comunque abbiamo atteso il movimento degli altri e rischiamo ora di essere dipendenti dagli altri e infatti lui dice nella migliore nella migliore delle ipotesi queste politiche fatte appunto dai paesi extraeuropei sono progettate per reindirizzare gli investimenti verso le loro economie a scapito delle nostre e nel peggiore dei casi sono progettati per renderci permanentemente dipendenti da loro questa è una è una forte presa di posizioni mario draghi che a mio avviso va anche a tirare una bella sberla addosso a tutte quelle politiche eco green ideologiche più che altro perché come al solito io ho la mia posizione ed è assolutamente corretto andare verso un mondo sempre più green tuttavia la mia posizione non è ideologica secondo me ci sono alcune scelte come ad esempio case green che gridano vendetta sostanzialmente altre come il carbon adjust mechanism su cui ho un'idea più più variopinta ecco quindi su alcune cose sono d'accordo su altre meno in particolare sul framework finam se non vado errato con la pronuncia comunque il framework che prevede appunto di avere informazioni riguardo a tutta la catena del valore e non più soltanto sull'ultimo pezzo perché appunto non ha molto senso ridurre i nostri consumi in europa se poi banalmente stiamo esportando la co2 quindi o comunque l'inquinamento in generis per cui non ha senso dire qua stiamo benissimo tuttavia le nostre catene di approvvigionamento sono più inquinanti perché appunto utilizzano le strutture produttive di altri paesi europei e extraeuropei che non rispettano le nostre stesse normative tutto questo crea una situazione di sicuramente di frammentazione anche a livello competitivo perché vince chi riesce avere il contratto migliore a basso costo e quindi probabilmente con più alte emissioni quindi tutto quel discorso attorno al carbon adjust mechanism mi vede da una parte contento dall'altra però vedo anche le criticità perché se noi arriviamo a un certo punto al 2030 e banalmente inseriamo appunto questa norma posto che in verità il processo molto più lungo però non siamo pronti per appunto rispettarla significa in buona sostanza andare contro il muro della realtà e quando si va contro il muro della realtà ci si schianta e si fa e ci si mi di phase out tra una fase e l'altra la fase di transizione che va gestita molto bene perché altrimenti all'interno della fase di transizione ci si rischia di farsi molto male quindi draghi punta anche a questo aspetto secondo me con le sue soluzioni ben inteso su cui io ho alcune perplessità è perché non voglio nascondervele dice anche un'altra cosa interessante lui cita gli stati uniti quindi cita lira e dice gli stati uniti da parte loro stanno utilizzando una politica industriale su larga scara per attrarre capacità manifattoriere nazionali di alto valore all'interno dei propri confini e poi dice l'europa non ha mai fatto un qualcosa di simile lui dice non abbiamo mai avuto un accordo industriale equivalente a livello ue anche se la commissione ha fatto tutto ciò che era in suo potere per colmare questa lacuna attenzione però anche qui io vorrei sottolineare un aspetto a draghi noi abbiamo provato in realtà a fare qualcosa di molto simile all'ira si chiama pnr r no questo grande piano che ricordava appunto i piani quinquennali dell'antica unione delle repubbliche socialiste sovietiche in cui si diceva andiamo a migliorare la nostra digitalizzazione andiamo a fare il green andiamo a migliorare la sanità andiamo 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 facciamo le scuole l'educazione gli asili eccetera eccetera tutte belle cose no per poi rendersi conto di non avere le capacità tecniche almeno uno di questi paesi sicuramente l'italia non avere le capacità tecniche per mettere a terra questi progetti in modo serio no poi chiaramente anche qui uno può dire sì però questo investimento serviva poteva essere gestito meglio sono fra coloro i quali dice ciò tuttavia bisogna anche rendersi conto che se cinque anni di espansione fiscale non hanno portato a quasi niente con tutta probabilità senza una svolta e quindi senza aver appreso dei propri errori altri cinque anni con un'altra espansione fiscale con tutta probabilità porterà ancora niente ok o qualcosa in più chiaro che c'è sempre un concetto di apprendimento no o comunque ci possono essere le possibilità per migliorare e gestire in modo più consono in modo più efficiente tutto il progetto però dopo cinque anni l'esperienza dice che abbiamo cambiato praticamente tre volte il codice degli appalti se non quattro adesso vado molto a memoria e nonostante ciò risultati non ce ne sono ok quindi io ho forti perplessità su dobbiamo rifare un mega piano industriale europeo perché l'abbiamo già fatto i risultati non sono stati proprio i migliori quindi anche qui ci si accorge dell'errore si dice ma forse dobbiamo fare qualcos'altro prima di mettere in atto un'espansione della spesa pubblica lui poi dice il buon draghi dice oggi investiamo meno in tecnologie digitali e avanzate rispetto a stati uniti e cina anche per la difesa e abbiamo solo quattro attori tecnologici europei globali tra i primi 50 a livello mondiale e qui lui collega questo discorso più avanti nel terzo nella terza colonna o nella quarta adesso vado molto a memoria con le start up tecnologiche almeno questo mi è parso cioè lui dice in buona sostanza che noi abbiamo una dimensione dell'impresa molto piccola soprattutto per quanto riguarda le start up start up che magari hanno anche dei buoni propositi diciamo una buona ricerca alla base noi siamo bravi a fare ricerca dice draghi tuttavia quando mettiamo appunto a terra queste idee cosa succede che le nostre start up non fanno le start up ok pensate semplicemente la dimensione media americana rispetto a quella italiana o rispetto a quella europea e uno dei motivi più secondo draghi rilevanti è quello del dell'approvvigionamento finanziario quindi il debito sostanzialmente cosa succede io creo una start up ho una mia idea la metto un po terra nel frattempo vado a fare dei round cerco degli investitori vado da grandi aziende che mi possono appunto prestare dei soldi vado dalle banche chiedo dei soldi vado non lo so da un business angle oppure da altri attori di questo tipo vado insomma a cercare finanziamento cosa succede succede che se la mia idea piace appunto a questi attori questi attori potrebbero mettere dei soldi dopodiché devo rispettare dei kpi che abbiamo deciso insieme ok lo fa anche cassa depositi e prestiti e altre consociate appunto cassa depositi e prestiti fanno anche questa operazione quindi si dice in buona sostanza guarda mese prossimo io prevedo un fatturato più 10 per cento oppure più 3 per cento più 4 per cento penso che la mia base clienti cresca del 20 per cento penso che l'ltv cioè il lifetime value del mio cliente cresca del 4 per cento 5 per cento mensile e se io raggiungo quel risultato ecco che appunto l'investitore mi ridà del denaro ok è un processo molto complesso è ci sono delle figure che appunto si sviluppano nel promuovere nel cercare appunto fondi quindi fare fundraising non è banale come processo draghi dice cerchiamo di allentare la burocrazia da questo punto di vista cerchiamo di deregolamentare questi processi sotto un certo aspetto sono stra d'accordo sotto un altro semplicemente la parola deregolamentazione messa lì mi fa paura perché è la stessa cosa del debito buono draghi nel 2020 se non vado errato nel 2019 inizio a parlare di debito buono noi penso che possiamo essere d'accordo sul fatto che esista un debito buono ok cioè quel debito che ti dà un ritorno economico molto più alto dell'interesse a cui ti sei indebitato quindi bellissimo questo debito il problema è che quando tu non specifici appunto o lasci l'interpretazione alla politica tutta e sei uno dei policy maker più importanti d'europa e direi anche del mondo ecco quando lasci lo spazio interpretativo molto ampio j ampio succede che la gente pensa che il debito sia buono e non che esista una frazione del debito o comunque un modo di fare debito che è migliore rispetto a un altro e questi concetti secondo me sono molto delicati sono abbastanza certo che qualcuno potrebbe prendere queste parole estorpiarle come già fatto in passato quindi qui io tenderei a dire sì deregolamentiamo pure però da qui a eccedere in leva finanziaria ne passa perché è bello far crescere le nostre startup bellissimo poi io sono anche in conflitto di interessi quindi figuratevi se vado contro questa idea però banalmente un conto è andare a fornire più liquidità a progetti che dimostrano di essere validi e un conto è fornire liquidità a tutti ad minchiam per essere un pochino più coloriti e scusatemi il colorimento dice anche draghi c'è un altro problema oltretutto questo c'è il problema delle sm3 formati normative nei sussidi e nelle politiche commerciali anche questo è abbastanza evidente a tutti no qualcuno dice protocollo di chioto docet sono stra d'accordo e lui dice un altro tema fondamentale sono i costi energetici più bassi io se notate è l'unico blu che ho utilizzato e qua perdonatevi un po di bias che vi suggerisco da questo punto di vista ve lo segnalo tra l'altro che è un bias però a mio avviso personale quando uno mi dice costi energetici più bassi e nel frattempo sostenibilità ambientale e non può andare tanto distante ok soprattutto quando poi cita la safety cita le catene di approvvigionamento e via discorrendo significa facciamo pure le risorse rinnovabili quando abbiamo appunto gli input draghi parla appunto di input e risorse all'interno dell'unione europea che può starci come discorso tuttavia se non abbiamo gli input non abbiamo le risorse e non ne abbiamo tantissime detto francamente almeno disponibili ora nell'immediato l'altra alternativa è appunto l'energia nucleare soprattutto suppongo micro e smr o nano reattori insomma queste taglie che sono molto più facili da gestire soprattutto per economie come quella italiana che banalmente è già in dinamica snowball potremmo quasi dio non forse già però poco ci manca ok quindi è in una situazione in cui a un tasso di indebitamento un nome remedio del debito più alto rispetto appunto a quella che è la crescita reale dell'economia quindi dette in altri termini bene fare bene dotarsi di energia a basso costo però bisogna stare anche attenti da questo punto di vista quindi mi piace che lui lo dica tuttavia ho qualche perplessità sul come farlo vabbè lui ripete tante volte il concetto di normazione quindi l'aspetto cogente quanto è importante ancora qua lui praticamente ti dice ci sono tanti rischi c'è il rischio economico sostanzialmente c'è il rischio legato alla sicurezza intesa in modo molto generico che va appunto dalle questioni energetiche alle questioni fiscali alle questioni appunto di sicurezza di difesa e vi discorrendo fino a passare anche un rischio normativo e anche qui io ci ho letto una bella presa in giro rispetto all'ultimo all'ultima decisione dell'unione europea riguardo all'intelligenza artificiale noi nemmeno abbiamo l'intelligenza artificiale mi sembra che uno degli unici uno dei pochi progetti scusatemi in italia abbastanza promettente allo stregatto tuttavia se noi regolamentiamo e basta non ha molto senso dobbiamo invece cercare di far sviluppare appunto queste imprese faccio anche un po di sponsor appunto lui dice ricevono in alcuni casi massicci sussidi che minacciano direttamente la capacità delle aziende europee di competere quindi buona sostanza lui dice qua ok però se loro all'estero sussidiano tanto chiaramente noi abbiamo un deficit competitivo è logico che alcune delle nostre industrie ridurranno la capacità produttiva e si trasferiranno al di fuori dell'unione europea è corretto quanto afferma draghi tuttavia io vi ricordo che sono i nostri stessi politici a non presentarsi ai tavoli delle trattative vi ricordate quando giorgetti nel 2023 evitò di andare a un convegno insieme a intel e andò alla sagra della salsiccia ecco è lo stesso tema inutile lamentarsi di non avere capacità attrattiva nei confronti delle grandi imprese se poi preferisci parlare di turismo parlare di edilizia parlare di attività a basso valore aggiunto ora l'edilizia magari sta sulla media del valore aggiunto però il turismo è molto molto basso la santa anche questa mattina è uscito fuori un articolo in cui diceva a io sogno che il turismo sia la prima industria in italia che bello facciamo tutti i camerieri a 7 euro e 50 l'ora forse anche con un contratto part time bello in grigio quindi quattro ore al giorno che sono scritte in busta paga e quattro ore fuori busta ma che cosa potrebbe mai andare storto facciamo i camerieri d'europa e vissero tutti felici e contenti quindi sì bellissimo puntare sulla tecnologia puntare sui grandi player che vengano a produrre qua appunto in europa che si creino filiere del valore bellissimo tutto bellissimo ma poi lo scontro con la realtà è di politici miopi che puntano ancora sulla sagra della salsiccia che per dio avrà sicuramente la sua importanza oppure sul sul fare boh non lo so il cameriere lo chef via discorrendo con tutto il rispetto per tale professione che non è facile tra l'altro anzi penso che sia una delle più dure io personalmente l'ho fatto per un anno basta mi è bastato mi è avanzato durante appunto i miei studi quindi non è quella non deve essere quella onestamente l'aspirazione di un'economia non deve essere quella di puntiamo a far tutti i camerieri anche perché prendete il valore aggiunto per ogni occupato nel settore alberghiero moltiplicatelo per gli occupati che sono circa 23 milioni e otterrete il nostro bellissimo pil e il pil vi posso garantire che sarebbe molto 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 basso dopodiché hai voglia tu a fare le case green 200 miliardi l'anno all'interno dell'unione europea con quel valore aggiunto di partenza ci facciamo le grasse risate quindi draghi poi parla anche di agenda climatica ambiziosa va benissimo anche qui una stoccatina io ci ho letto magari sbaglio io e lui dice va bene fare un agenda climatica ambiziosa ma come vi annunciavo prima questa deve essere combinata con un piano per proteggere la nostra catena di approvvigionamento dai minerali critici alle batterie fino alle infrastrutture di ricarica dobbiamo poter contare su sistemi energetici decarbonizzati indipendenti per quello che dico la filiera del fotovoltaico comunque delle rinnovabili in generale parte vabbè penso l'idroelettrico difficilmente è molto indipendente è una cosa che mi ha fatto un po storcere il naso anche questo azioni immediate cioè sì sono necessarie azioni immediate come dice draghi però le azioni immediate sono tipiche non di una democrazia ok la democrazia è lenta purtroppo però al vantaggio di appunto nel lungo periodo raggiungere un second best ok passatemi questo termine anche se è sbagliato tuttavia raggiungere un risultato migliore più efficiente e comunque più egualmente condiviso rispetto invece una dittatura no c'è il paradosso appunto sempre famoso di arro ogni tanto vi consiglio c'è un libro che è uscito da de agostini che tratta il tema se siete interessati ma poi ci fece anche un video un paio di mesi fa sta di fatto che azioni immediate ok ma come cioè non basta semplicemente scriverlo chiaramente anche qui è soltanto un discorso introduttivo io spero di poter leggere in quel documento sulla competitività qualcosa in più dopo di che lui dice ok va bene ma dette tutte queste belle cose nei primi tre nei primi tre nelle prime tre colonne come facciamo allora lui dice il primo filone è consentire la scalabilità e per consentire la scalabilità lui cita quello che dicevo nel video di ieri che ancora vi ricordo che è stato shadowbandato a questo punto andate lì e mettete like grazie scusate sprutto e comunque sia qui si dice scalabilità ma scalabilità lui la intende sia come integrazione sia come una sorta di dirigismo quasi perché fa alcuni esempi che onestamente non mi sono piaciuti io li ho rivisti negli ultimi discorsi che sta portando avanti i giavazzi ad esempio lui dice equa vi prendo proprio paro paro i nostri principali concorrenti stanno approfittando del fatto di essere economie di dimensioni continentali per genere scala per generare scala aumentare gli investimenti conquistare quote di mercato e qui stiamo d'accordo in europa abbiamo lo stesso vantaggio in termini dimensioni naturali ma la frammentizzazione ci frena e anche su questo sono d'accordo ad esempio lui dice nel settore della difesa la mancanza di scala costa allo sviluppo la capacità industriale europea quindi in buona sostanza lui dice guarda che non avendo capacità di scale il nostro settore della difesa non riesce a produrre grandi quantità o comunque essere efficiente quindi banalmente dobbiamo mettere più soldi ed è il discorso di ieri e anche qui lui cita i contratti il fatto che l'ottanta per cento di questi contratti è rivolto verso l'estero quindi banalmente quando facciamo un contratto per beni di questo settore l'ottanta per cento viene dall'estero quindi extraeuropeo quindi buonissimo il fatto di dire cerchiamo di integrare meglio di gestire meglio i subappalti di gestire meglio quindi tutta la fase di procurement poi però dice i primi cinque operatori negli stati uniti rappresentano l'ottanta per cento del suo mercato più ampio mentre in europa ne costituiscono il 45 per cento ora questa frase onestamente a me non è piaciuta tantissimo perché perché sebbene è importante avere una grande dimensione di impresa tuttavia avere l'ottanta per cento della produzione controllata dai primi cinque player significa in buona sostanza avere un oligopolio quasi quindi è meglio puntare invece su una situazione più omogenea o comunque su una distribuzione migliore della produzione quindi onestamente non capisco perché questa voglia di verticalizzare in modo così eccessivo cioè certi esempi a mio avviso stanno stuzzicando un'eccessiva verticalizzazione delle catene del valore quindi questa cosa non è che mi piaccia tantissimo perché se tu verticalizzi è vero che magari sei più veloce riesci a usare più appunto più tecnologie di scala riesce a ridurre i costi vedi scorrendo ma un eccesso potrebbe portare ad essere meno facile appunto affrontare l'innovazione cioè vai a saturare il mercato vai a irrigidirlo e quindi banalmente qui se devi innovare hai tutta una serie di problemi e quindi vedi colossi che calano boh mi sembra che sotto certi aspetti sì dovremmo migliorare la nostra dimensione media sotto altri però non dobbiamo perdere appunto la nostra media impresa cioè dobbiamo far crescere un po tutti sostanzialmente non dobbiamo eccedere nella curva andando a spostarla troppo verso destra insomma quello che intendo dire che ci deve essere una certa omogeneità nella distribuzione non possiamo pensare a una distribuzione eccessivamente asimmetrica ecco detto in altri termini qua scusatemi il tecnicismo però non riesco a renderle idea meglio i governi non appaltano molto insieme dice quasi l'ottanta per cento insomma quello che dicevo poco fa andando oltre lui cita anche un altro esempio secondo me questo invece è abbastanza stupido detto francamente cioè non me lo aspetto da una persona come draghi quindi io spero che si sia espresso male tuttavia lo so che draghi pesa le parole quindi la cosa mi dà ancora più fastidio non ho paura di dirlo è detto francamente però diciamolo lui dice abbiamo un mercato di circa 400 milioni di consumatori nell'ue ma gli investimenti pro capite sono la metà di quelli degli stati uniti e siamo in ritardo nella diffusione 5g e fibra uno dei motivi di questo divario che in europa abbiamo 34 gruppi di reti mobili che spesso operano su scala nazionale contro 3 negli stati uniti e 4 in cina però francamente se io vado a vedere le performance degli stati uniti e quelli della cina e quelli ad esempio del mercato europeo scopro che ad esempio l'italia è uno dei migliori basso costo per gigabatt per gigabatt scusatevi per gigabyte è uno dei più bassi e comunque la rete funziona ok c'è qualche problema certamente tuttavia anche gli stati uniti la cina hanno i loro problemi sulla rete non è che è tutto bellissimo quindi anche qui mi sembra che ci sia un eccesso no però noi lato it stiamo cercando di crescere certamente dobbiamo fare di più certamente dobbiamo investire di più ma da qui a propormi come modello di sviluppo quello degli stati uniti o qualche perplessità anche perché significherebbe pagare una cosa come 50 60 euro l'offerta che oggi noi paghiamo tra le 7 le 20 è un problema andiamo oltre perché le dimensioni sono cruciali appunto questo ve lo citavo poco fa sulla parte del dello smart del tech diciamo sì lui cita anche la questione farmaci l'intelligenza artificiale la ricerca eccesso di regolamentazione dopodiché lui dice il secondo filone riguarda la fornitura di beni pubblici quindi il primo filone per lui appunto come sottolineavo è la scalabilità quindi sotto certi aspetti sì però non eccediamo troppo in verticalizzazione il secondo filone sono i beni pubblici e qui lui cita ad esempio il mercato energetico che dovrebbe essere integrato e su questo penso che siamo tutti d'accordo per ridurre i costi energetici per le nostre aziende e quindi insomma da posizionarci ad esempio a livello internazionale come europa e non più come singoli stati cioè quando vai a fare il contratto con questo quell'altro fornitore di gas liquido naturale liquefatto scusatemi quindi dgnl non vai come italia ma vai come europa va bene ok ci mancherebbe quando vai a prendere che ne so il litio che ti serve sparo ok non vai come francia germania italia ma vai come europa anche qui molto bene le interconnessioni lui dice richiedono decisioni sulla pianificazione sul finanziamento sull'approvvigionamento dei materiali e sulla governance che sono difficili da coordinare sono super d'accordo anche perché qua per dare mandato a un commissario europeo comunque un ente europeo per approvvigionarsi di certi materiali o comunque di certe risorse bisogna anche qui scendere a patti cedere sovranità per forza di cose perché poi non puoi fare anche il contratto che ne so francia libia no non esiste esiste soltanto il contratto europa libia eventualmente o europa cina o europa stati uniti o europa quello che volete voi sta di fatto che non si può più avere quindi una politica energetica nazionale ed è molto difficile il terzo filo conduttore garantire la fornitura di risorse input essenziali su questo penso che ne abbiamo parlato moltissimo detto ciò io direi che sotto certi aspetti sono abbastanza d'accordo con quello che dice draghi maggiore verticalizzazione più integrazione andiamo pure a spingere di più sul nuovo sulle nuove tecnologie investiamoci va benissimo mi manca tutto un filone di come che chiaramente leggeremo più avanti sono spaventato dall'eccesso di dirigismo e dall'eccesso di verticalizzazione da una parte perché il dirigismo significa dare in mano ai politici il destino della politica industriale e piaccia o meno ma la politica industriale è meglio che la facciano appunto gli imprenditori e eventualmente il politico vada a regolamentare non eccedendo in regolamentazione perché anche quello un altro aspetto c'è un altro problema però appunto questo eccesso di verticalizzazione eccesso di verticalizzazione spesso volentieri ti porta a non avere capacità innovativa o comunque a non adattarti bene ai cambiamenti quindi io qualche perplessità però vi ringrazio ancora come sempre per l'attenzione vi ricordo che domani niente live alle 12 ma ne faremo una alle 18 e 30 sulle sanzioni più che altro abbiamo fatto una piccola ricostruzione di che cosa sta succedendo in ambito sanzioni poi temi che avevo annunciato questa settimana che non abbiamo affrontato eventualmente li recupereremo quindi domani parliamo di di come alcune aziende italiane stanno bypassando le sanzioni e stanno mandando materiale alla russia o l'hanno mandato in passato quindi sarà un momento abbastanza interessante di approfondimento da questo punto di vista e venerdì invece niente live perché come dicevo già all'inizio della settimana ma anche le settimane scorse in questo weekend sono al mugello quindi sono al mugello a borgo san lorenzo l'evento di energeia parlerò di ambiente e di economia quindi che relazione esiste e soprattutto cosa succede quando facciamo una transizione energetica che effetti possiamo attenderci dal punto di vista economico e aggiungo un altro aspetto che secondo me potrebbe essere interessante poi vedo se riesco a registrarlo l'intervento con alpino che un economista della banca d'italia c'è un altro tema che alpino ha studiato molto interessante ovvero che effetti dovremmo attenderci sugli impatti economici se non agiamo per contrastare il cambiamento climatico e lui ha cercato di rappresentare il tutto attraverso un modello molto interessante di cui tra l'altro c'è un piccolo articolo sulla voce punto info se siete interessati ve lo lascio qua sotto in descrizione magari ve lo leggete e vi fate due idee magari o mi mi suggerite alcuni temi da affrontare anche qua in diretta su youtube detto ciò vi auguro una buona giornata statemi rischettamente bene like condivisione tante care cose e alla prossima ciao ciao